Questo nostro spazio, questa nostra striscia, lo sportello del cittadino, vuole dare spazio ai cittadini, vuole far sì che i cittadini si sfoghino, dicano liberamente quello che pensano. Siamo qui a Taranto, in piazza Costa, in Largo Costa, vicino a Corso Piemonte, una piazza praticamente abbandonata che continua a sopravvivere grazie all'impegno dei cittadini, soprattutto anziani, di buona volontà. Un amico, un signore vuol dirci qualcosa? Eh sì, ieri dovevo venire qua, venite uno scempio di paglie qua, meno male che nessuno ci permetteva di dare un piano mio fratello, non vendiamo tutto coso. E voi quindi, stia fermo, stia fermo, se no se ne scappa. Dicevamo, e voi lei innaffia, mi diceva, il pomeriggio? Sempre io, la mattina presto, non il pomeriggio, mi alza presto la mattina mia, prende l'acqua innaffia e va per tutto. E l'amministrazione invece non provvede? Niente, andrò mi hanno minacciato, dice qua, noi abbiamo un personale che lo fa, non c'è bisogno che lo fa lei, però non ci viene nessuno, è bucì io, lo faccio io perché sono un appassionato. E poi c'è questo busto abbandonato, rotto, che non c'è più. Eh sì, c'era un monumento, quando l'hanno rifatto era bellissimo, poi mi trovavo io presente, è venuta una persona con un'attrezzatura. E ha distrutto tutto. E ha distrutto, monumento, sedile di marmo, tutto ha distrutto. Bene, questo era lo sfogo di un cittadino, ce ne saranno tanti perché lo sportello del cittadino, la nostra televisione, la nostra emittente è libera e vuole dare spazio a tutti. Viva la democrazia, viva la libertà di informazione.